Bene, ed eccoci in studio. Apriamo lo spazio medicina. Come vi avevo annunciato all'inizio della puntata, oggi parliamo di dieta. Dieta è una parola brutta, però io ho qui davanti un libro che si chiama La dieta perfetta. Ed è un libro che è stato scritto dal dottore Salvatore Bagiamonte, che ha una storia un po' particolare perché lei è un nutrizionista e non solo, però ha deciso di scrivere questo libro anche con l'aiuto di uno chef che è Joseph Fuma, che anche qui accanto lo presentiamo, perché sostiene che ovviamente l'attenzione del peso forma sia un modo per sentirsi in pace con se stessi. Di cosa si tratta? Beh, prima di tutto colgo l'occasione per ringraziare la casa editrice Open Working, in particolare riferimento al signor Gian Pietro Zanga e al dottor Filippo Caravese, che con la pubblicazione del mio libro mi hanno dato finalmente l'opportunità di trovare un posto nel mondo. Ho trovato il mio posto nel mondo, infatti il libro è stato tradotto in frangia della più prestigiosa casa scientifica francese, che è una multinazionale, ed è stato tradotto, e questa casa editrice è stata fondata dai premi Nobel e tuttora pubblica per premi Nobel. Il libro, tra l'altro, è stato tradotto da uno dei più eminenti scienziati francesi, che è il professor Robert Loup. L'ha voluto tradurre lui. Che lei ti pare un premio Nobel? Sì, mi sembra di sì. È un famoso chimico strutturista appassionato di dietetica. L'ha voluto tradurre lui. E il libro è venduto in tutto il mondo. Benissimo. E ma perché parliamo di dieta? Parliamo di dieta anche per ringraziare il mio sponsor, che mi ha dato l'opportunità di... Alla fine. Parliamo del libro. Alla fine. Allora, guardi, c'è una frase bellissima, soprattutto... Tutto il rispetto per gli sponsor. Soprattutto alle signore, perché insomma, le cose si appicina, ci dobbiamo mettere in forma tutti. C'è una frase bellissima che è messa qui, è una frase di Ippocrafe, e dice Il nostro cibo dovrebbe essere la nostra medicina. La nostra medicina dovrebbe essere il nostro cibo. Sì, è proprio così. Io non ho la pretesa di... La dieta perfetta non è un titolo provocatorio. Questo titolo è stato scelto da... È stato scelto da mio editorio perché ha capito meglio di me come funziona il libro. Io non ho la pretesa di dire quali sono gli alimenti perfetti per dare una vita più lunga. Ho solamente avuto la pretesa, la pretesa che è stata accettata poi della comunità scientifica internazionale, che è quella di dire che esiste il bilanciamento energetico perfetto. Io nel mio libro l'ho scritto e comunque alle persone, sia agli uomini sia soprattutto alle donne, dico come bilanciare a livello ottimale una dieta. Una dieta che dia la minore possibilità, che dia la minore morbidità e la minore mortalità. Cioè, quello che voglio dire è una dieta che dia minore possibilità di ammalarsi e di vivere più a lungo. Questo è quello che... Sì, perché c'è anche questo rischio. Se una dieta non funziona... Può provocare seri danni, eh? Sì, ma infatti io faccio seriamente il riferimento ai larmi, sia alle tabelle nazionali che alle tabelle internazionali. I larmi sono proprio dei punti di riferimento dove dicono che rispettando quella quantità di alimenti, quel bilanciamento degli alimenti sia dal punto di vista nutrizionale, quindi sia dal punto di vista energetico, quindi rispettando i larmi dal punto di vista energetico, dal punto di vista nutrizionale, si può avere la possibilità di raggiungere il proprio peso forma e di stare bene. È una dieta fisiologicamente equilibrata. Il mio titolo, quando ho presentato il mio manoscritto all'editore, il titolo era originale, è la dieta fisiologicamente equilibrata. Dottore Baiamonte, lei ha avuto un collaboratore d'eccezione nella storia di questo libro che è uno chef che è Joseph Buma, che è qui accanto a lei. Vorrei passare il microfono. Joseph, io non so se per te, diciamo, è la prima esperienza. Assolutamente. Diciamo che è un quel po' che mi occupo di cucinare. Allo stesso tempo, diciamo che ho fatto più scritte, allo stesso tempo in ricerca. E com'è andata questa volta? Diciamo che stavolta, in sintonia con il dottore Baiamonte, diciamo che ci siamo trovati abbastanza bene. Lui non mi ha raccomandato altro di esaltare esattamente tutti quelli che erano i nostri alimenti della dieta moderna. Non che voglio l'oliva, il carboidrato, quindi la pasta, la carne, il pesce, condimento sovrano per le nostre tavole. E con i piccoli suggerimenti che l'esperienza un po' nella vita mi ha dato, abbiamo composto una serie di ricette che sono facili da realizzare, allo stesso tempo a divertirsi. Possiamo citarne una su tutte così? Diciamo che si avvicina l'estate, un po' tutti vogliono essere in forma. Io non potrei solo che raccomandare di utilizzare tantissimi vegetali. e attenzione alle cotture, che siano delle cotture soft, leggere, lessi, cotture al vapore, che naturalmente esaltano e non aggrediscono il prodotto, ma allo stesso tempo diciamo che lo rendono più proprietario per la nostra salute. E a proposito di cibi salutari io vorrei proporvi una novità, caro Sogio, perché i nostri ospiti, e qui accanto a me c'è un altro ospite che è il signor Mendolia, Filippo Mendolia. Mi date il micro, ragazzi. Non vuole parlare il signor Mendolia. Non ci ha raccomandato altro, eh? No, 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 gli facciamo soltanto la domanda. Ne vale la pena. Si è inventato, però ovviamente con l'aiuto del dottore Baiamonte, in collaborazione con il dottore Baiamonte, una nuova tipologia di pane, che è un pane alle alghe. Ma hai mangiato pane alle alghe tu? Non ne ho idea, ma... È un pane alle alghe, lo vediamo scorrere le immagini che ci manda il nostro buon Gigi Bartolomeo. Questo è il pane alle alghe, lettera? Sì, questo è il pane alle alghe, che si dice essere un pane dietetico che fa bene alla salute, addirittura delle potenzialità proprio dal punto di vista dietetiche. E io, siccome lui poi è... l'ha detto al dottore, perché è proprio lui che lo fa materialmente, vorrei semplicemente farti questa domanda, e poi ti lascio un bacio perché so che tu non vuoi parlare. come nasce questo pane e, insomma, com'è? Com'è... è un pane che nasce un'idea di mio fratello. Sì. E com'è... È buono. Sì, perfetto. Ovviamente. Fa bene alla salute, l'abbiamo detto. Sì, fa bene alla salute. Ma cos'ha l'aria speciale? L'aria speciale che fa bene all'ateroide, per perdere peso e... ma che anche ci sono dentro. Alchie marine. Alchie marine. Quindi, avvisita in me è stata di questa cosa, ma funzionano la salute... Alchie terrestri. Alchie terrestri. Alchie terrestri no. 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 No, no, però accanto al signor Mendolia c'è Diego Virgone, che è un biologo. Diego, io volevo chiedere a te, visto che lui è un po' timido e non ne vuole parlare, dal punto di vista nutrizionale che valore ha questo... Allora, diciamo praticamente che non sono praticamente le alghe delle nostre zone, prima di tutto. Allora, queste sono delle particolari tipi di alghe che vengono dal circolo polare artico e praticamente hanno una... è un tipo di alghe che viene chiamata fucus biolososus, in cui le fibre sono molto importanti perché hanno un altro potere digestivo. Che significa? Praticamente, come noi sappiamo, molte quando si fanno mediate le fai da te e abbiamo delle patologie che si vengono a creare come pregande la colite o la gastrite, che sono un pregande dei gassi per interprisire le nostre zone. Diciamo che i pregande servibili hanno una capacità molto digestiva perché assorbono soprattutto sia i grassi che i carboidrati. quindi tra l'altro rendono anche i pregande del pane molto più pregande e digeribili rispetto agli altri tipi di pane. C'era il dottore Baiamonte che voleva aggiungere qualcosa, prego dottore. Io vorrei innanzitutto confermare la bontà del prodotto e per favore vorrei dire alle persone che non fermarmi più per strada e dirmi se va bene o non va bene. Perché io mi fermo con tante persone in strada e voglio… Beh, la cura sta, però mi perdoni, è normale. Io l'ho confermato pubblicamente nello spot, lo confermo ora. Va bene. Tra le tante qualità positive ci sono due particolari sostanze che sono la laminarina e la focoxantina. La laminarina è un glucosidio esoforato, ha una proprietà anticoagulante, abbassa la concentrazione del sangue e abbassa la concentrazione dell'ipide del colesterolo nel sangue. Nello stesso tempo la focoxantina è una particolare proteina e questo si è visto da studi fatte nell'Università di Ocario, in Giappone. Questa proteina attiva la beta-ossilazione, quindi migliora il metabolismo basale. La beta-ossilazione, ripeto, non è altro che quel particolare meccanismo biochimico che ha la funzione di rilugiare gli acidi grassi. Benissimo, grazie! E allora, riapriremo poi!